A tutti voi buonasera dal Tg Max, in apertura c'è ancora la cronaca con l'omicidio Paganelli, non è stato convalidato il fermo di Gelu Kelmus, il romeno 31enne arrestato lo scorso 14 agosto e poi rilasciato per l'omicidio e la rapina di Albina Paganelli, pensionata uccisa a coltellate nella sua abitazione di San Salvo. Il GIP del Tribunale di Vasto, Stefania Itzi, nell'udienza di questa mattina, non ha convalidato il fermo del 31enne operaio di nazionalità rumena residente a San Salvo, Gelu Kelmus, disposto a meno di 20 ore dalla scoperta del delitto, assieme a quello di Vito Pagano, 28 anni di San Salvo, ancora in carcere e unico indiziato dell'omicidio di Albina Paganelli. Kelmus, in compagnia dei suoi difensori, gli avvocati Giuseppe Piserchia e Andrea Chierchia, è comparso davanti al GIP e alla fine per lui è arrivato il provvedimento più atteso. Soddisfatti i suoi legali, è stato confermato ciò che Gelu Kelmus ha sempre ripetuto, non ha messo piede nella casa in cui è avvenuto il delitto. L'indagine sulla morte della pensionata 68enne San Salvese, intanto, è arrivata ad una fase focale e ci è attesa, ma ci vorrà un altro mese almeno per avere un quadro completo della situazione, per la verifica dei riscontri dei carabinieri dei RIS relativi alle analisi sulle tracce di sangue rinvenute nell'abitazione di Via Fedro, sul coltello, sulle scarpe, sulle banconote da 50 e 10 euro, rinvenute dai militari della stazione di San Salvo nella residenza di Pagano. Ha sconvolto tutta la città di Vasto la notizia dell'improvvisa morte di un bimbo di soli 8 anni in vacanza con la sorellina e i genitori ad Euro Disney. L'auto sulla quale viaggiava è stata tamponata in un parcheggio, il bimbo è morto sul colpo. Dolore, sconcerto e incredulità sono ancora i sentimenti che dominano nell'animo dei familiari e dei tanti amici e conoscenti sconvolti per la tragica morte del piccolo Ettore Cordisco, il bambino di 7 anni di Vasto che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nell'area del parco divertimenti di Euro Disney alle porte di Parigi. Ettore, in macchina con il papà Roberto, la mamma Maria Domenica e la sorellina Bianca, è rimasto vittima del terribile impatto che il mezzo sul quale si trovava ha avuto con un'altra vettura. La morte è sopraggiunta pressoché sul colpo. Il piccolo che quest'anno ha frequentato la seconda classe della scuola primaria delle figlie della Croce era in Francia assieme ai suoi più stretti congiunti per trascorrere alcuni giorni di relax e vacanza nel grande parco dei divertimenti. La notizia del gravissimo incidente avvenuto ieri mattina è giunta a Vasto solo ieri pomeriggio a diffonderla il papà disperato per l'accaduto. Nulla al momento è stato ancora deciso per il funerale del piccolo Ettore. Con ogni probabilità si arriverà all'inizio della prossima settimana dopo l'espletamento delle dovute, in questo caso tristissime, formalità burocratiche. Una donna di Giulianova di 30 anni è stata sottoposta a fermo di polizia e trasferita in carcere con l'accusa di concorso in furto aggravato in abitazione e portabusivo di armi. La donna, secondo i carabinieri di Bellante, si è intrufolata in un casolare di campagna approfittando della temporanea assenza del proprietario e insieme a due complici in corso di identificazione ha rubato una rastrelliera contenente due carabine, due revolvere, due pistole regolarmente denunciati, una balestra e 200 proiettili. Qualcuno ha notato i movimenti sospetti e ha allertato i carabinieri. All'interno dell'auto usata dalla donna, rintracciata poi a Giulianova, è stata rinvenuta tutta la merce e arnesi da scasso. La donna è stata rinchiusa in carcere a disposizione del magistrato. La siccità e la conseguente razionalizzazione dell'acqua hanno spinto il sindaco di Lanciano ad emettere una severa ordinanza, multa o arresto per chi utilizza acqua per usi diversi da quello potabile. Il primo cittadino di Lanciano non ha dimenticato i disagi causati all'intero comprensorio sabato scorso a causa della rottura di una condotta della rete idrica gestita dalla Sasi. I disagi sono stati risolti in meno di 24 ore, anche se nelle contradi a sud della città l'acqua è tornata disponibile solo martedì mattina a causa di un problema tecnico con lo sfiato di un serbatoio. Ma Pupillo non ha dimenticato nemmeno l'invito del presidente della Sasi, Domenico Scutti, a sensibilizzare i cittadini ad un uso corretto dell'acqua quando si è in regime di siccità e razionalizzazione. E così l'amministrazione comunale ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Ammenda di 206 euro o arresto fino a tre mesi è quanto prevede l'ordinanza emessa dal sindaco per vietare l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per usi diversi da quello potabile. Il provvedimento è motivato dalla carenza di acqua nel comprensorio. Il divieto di uso improprio dell'acqua potabile specifica l'ordinanza riguarda l'annaffiatura di orti e giardini privati, l'irrigazione campi, il lavaggio di autovetture, il lavaggio di spazi di aree private, il riempimento di vasche e piscine private ed altro utilizzo diverso dalle normali necessità domestiche e produttive. L'ordinanza ha effetto immediato e rimarrà in vigore fino al 30 settembre prossimo. Mancano sei giorni all'apertura dell'IKEA, il centro commerciale svedese, restano in piedi le preoccupazioni sollevate dai sindaci del comprensorio sulla viabilità. Il primo cittadino di San Giovanni Teatino ha chiesto un sopralluogo urgente sul casello autostradale di Chieti-Pescara-Ovest. Un sopralluogo urgente sul casello autostradale di Chieti-Pescara-Ovest dell'autostrada 14 prima dell'apertura del punto vendita IKEA in programma il 29 agosto. Lo ha chiesto oggi il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, all'Ispettorato di Vigilanza a Concessioni Autostradali, è intenato dalla riforma dell'ANAS che si occupa di attività di controllo tecnico-economico-giuridico delle autostrade in concessione. Dal tempo dell'idea al tempo di esecuzione del manufatto, scrive Marinucci nella sua lettera, sono stati impiegati cervelli e redazioni progettuali, tutti dediti ad accelerare l'arrivo del contenitore senza mai affrontare in maniera adeguata il naturale e difficilissimo tema dell'impatto sulla viabilità esistente e sulla qualità dell'area dell'intero comprensorio urbano e metropolitano. La viabilità va completata, ripensata e potenziata perché noi, aggiunge Marinucci, vogliamo che agli affari di IKEA possano continuare ad aggiungersi le opportunità di qualità della vita e di qualità dei progetti di lavoro di tutti coloro che già vivono a San Giovanni Teatino o che domani decideranno di venirci a vivere. L'amministrazione non rileva in maniera adeguata il rispetto del principio di precauzione e di attivazione delle responsabilità competenti per l'adeguamento delle infrastrutture, soprattutto per evitare il peggioramento esponenziale della qualità dell'area, oggetto di allarme di cittadini singoli ed associati. L'ente ha già comunicato che il 28 agosto l'architetto Proietti, vice direttore e responsabile della vigilanza sull'esercizio autostradale, sarà in municipio a San Giovanni Teatino per discutere della situazione con il sindaco e subito dopo effettuare un sopralluogo al casello. Oltre 62 mila prodotti pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio nel centro di Pescara. Il valore della merce è di 30 mila euro. Si tratta di articoli di origine extracomunitaria sprovvisti dai necessari requisiti per la messa in commercio in Europa. Ed ora ci spostiamo a Vasto. L'attrice e regista di origine greca Valeria Golino è stata l'ospite d'onore del Film Festival. Valeria Golino per la seconda volta a Vasto nel 2003 per la prima volta con Gerard Depardieu. È vero, confesso. Come ricorda di Vasto e come l'ha ritrovata oggi? La trovo splendida, come l'avevo lasciata, è bellissima, è una cittadina bellissima. Vedo dalle persone che c'è proprio calore, simpatia e adesso speriamo che piace il film che presento stasera. Ecco, lei ha girato con tantissimi registi americani e una delle pochissime attrici italiane che ha girato tanto negli Stati Uniti. Perché ha deciso di tornare in Italia e non seguire invece il filone cinematografico americano? Beh, ho abitato in America per una decina d'anni e perché mi piaceva lavorare lì ma soprattutto perché per motivi privati, d'amore e per gli stessi motivi privati, d'amore sono tornata in Italia perché poi io credo che, almeno per me è sempre stato così, alla fine le decisioni importanti sono sempre state prese per motivi di cuore e non di carriera. Per quanto riguarda invece il respiro, quanto è stato difficile interpretare Grazia? È stato faticoso, faticoso però era un ruolo che, era il mio ruolo, quindi era un ruolo che mi stava addosso, non so come dire. È stato faticoso perché il film era faticoso però non difficile. Ho fatto ruoli semmai meno belli e più difficili. Quel ruolo mi era proprio, era un guanto per me. Progetti per il futuro? Sto montando il mio film da regista che si chiama Vi perdono e poi a settembre farò un film che si chiama Come un soffio di vento di Marco Puccioni. Con questa lunga storia d'amore con Riccardo Scamarcio vedremo questo matrimonio oppure non ci sarà? Questo lo deve chiedere a lui. Da parte sua? Vedrò, quando me lo chiederà mi saprò dire. Grazie. Continuiamo a parlare del film Festival di Vasto che ha chiuso i battenti ieri sera. Il cortile di Palazzo Davalos è stato invaso dai più piccoli per la terza pellicola di Madagascar con le avventure del Leone Alex. Attesi come stelle del cinema fuori dal cortile di Palazzo Davalos, ieri sera Alex il Leone e Skipper il Pinguino hanno salutato la folla festante di grandi e piccini in attesa dell'anteprima di Madagascar 3 ricercati in Europa. Come si può evincere dal titolo, i simpatici personaggi della famosa animazione della Universal Picture sono protagonisti di un'avventura che li porterà ad attraversare l'Europa con una prima tappa perfino nella città eterna in compagnia di nuovi amici la tigre russa, il giaguaro e perfino un leone marino ammaestrato. E prima di gustarsi quest'ultima avventura bambini di ogni età hanno atteso la proiezione in compagnia dei propri beniamini con l'allegria delle parruccone multicolore e altri gadget distribuiti dal personale. È considerato l'evento clou dell'estate francavillese a cena con gli artisti è un tuffo nel passato non troppo remoto che vuole ricreare le atmosfere in cui vissero grandi letterati ed intellettuali come Michetti e D'Annunzio. Francesco Paolo Michetti, Gabriele D'Annunzio, Edoardo Scarfoglio, Matilde Serau, Francesco Paolo Tosti il Cenacolo Michettiano rivivrà a Francavilla al Mare e nell'evento a cena con gli artisti quando vie e piazze del Paese Alto si caleranno nell'atmosfera dell'Abruzzo di fine 800 venerdì 24 e sabato 25 agosto. Ha presentato l'iniziativa il sindaco Antonio Luciani. Eh sì, si ricostruisce la Francavilla ai tempi del Cenacolo ai tempi nei quali persone come Francesco Paolo Michetti, D'Annunzio, Matilde Serau, Tosti, Barbella si riunivano e parlavano di cultura, di arte, di pittura, di poesie conosciamo bene quel tempo per averlo studiato questa manifestazione che abbiamo fortemente voluto ricostruirà la Francavilla di quel tempo. Figuranti in abiti d'epoca guideranno i visitatori in un percorso culturale sulle tracce di Michetti, senza tralasciare l'aspetto enogastronomico gli spettacoli musicali e giochi ottocenteschi per i più piccoli. Non mancheranno neppure le preziose auto d'epoca con l'associazione Abruzzo Old Motors di Amedeo Lisciani Petrini. Queste vetture sono un po' ormai un'espressione d'arte nella massificazione attuale delle vetture queste automobili, ognuna con la propria peculiarità e caratteristica sono come dei, non dico dei piccoli, ma dei grandi capolavori d'arte. Alex Belli, l'attore che interpreta Jacopo Castelli nella fortunata serie TV 100 vetrine sarà il principe colonna del Letto Sondoro 2012 in programma domenica prossima a Vasto. Tutto è pronto per il 26esimo corteo storico del Letto Sondoro in programma nel centro di Vasto domenica 26 agosto a partire dalle ore 18. La manifestazione anche quest'anno avrà un ospite d'eccezione. A vestire gli abiti del principe Fabrizio Colonna sarà Alex Belli, interprete di 100 vetrine. Belli ha risposto con entusiasmo all'invito rivoltogli di prendere parte al corteo storico che con oltre 250 figuranti investiti settecenteschi sfilerà per le vie del centro. Il percorso comprende Piazza Pudente, Corso De Parma, Via Marchesani, Corso Plebiscito, Via Torino, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Corso Italia, Piazza Rossetti, Piazza Diomede, Corso De Parma, Piazza Pudente e arriverà dinanzi a Palazzo D'Avalos dove avrà luogo la cerimonia, secondo il rito tratto dal cerimoniale del tempo, della collazione all'ordine del Tosondoro del principe Colonna. Il Marchese D'Avalos sarà impersonato da Sante Monteferrante, vicepriore della Confraternita della Sacra Spina, reliquia donata a Vasto dalla famiglia D'Avalos. La rievocazione storica proietterà idealmente Vasto all'epoca in cui la residenza dei Marchesi D'Avalos divenne centro di attrazione per l'Italia e l'Europa, richiamando principi nobili e alti prelati. La manifestazione riproporrà la cerimonia svoltasi a Basso il 24 ottobre 1723, del conferimento avvenuto su incarico dell'imperatore Carlo VI del collare del Tosondoro da parte di Cesare Michelangelo D'Avalos, Marchese di Vasto e di Pescara, al principe romano Fabrizio Colonna, quale riconoscimento per i servizi resi alla Corte di Napoli. Ed ora la pagina sportiva. I biancazzurri hanno concluso per l'attaccante Vukusic dell'Aiduk Spalato. Il giocatore si è legato al Delfino con un contratto quadriennale. Affare fatto dopo un lungo corteggiamento e finalmente una punta al servizio del Delfino. Il Pescara ha concluso l'ingaggio dell'attaccante Ante Vukusic dell'Aiduk Spalato che ha accettato l'ultima proposta dei biancazzurri. Ai croati andranno 3 milioni e 800 mila euro mentre il giocatore si legherà al Delfino con un contratto quadriennale. Con Vukusic l'accordo era stato trovato senza grosse difficoltà mentre il club non si è mostrato subito collaborativo alla cessione tentennando e facendo temere per l'ennesima fumata nera al pari di Rosenberg, Munoz e Leonussi. Risolto dunque il nodo relativo al riferimento offensivo il DS dell'Icarri è pronto all'ultimo assalto per Pasquale Foggia espressamente richiesto dal tecnico Stroppa che potrebbe arrivare a Pescara negli sgoccioli di calciomercato. Intanto sale sempre più alta l'attesa per l'esordio in campionato contro l'Inter di Stramazioni e continuano i colpi di scena relativi alle polemiche per i biglietti destinati ai politici pescaresi. Ed ecco i carabinieri in comune questa mattina per tentare di acquisire la lista dei presunti politici beneficiari di abbonamenti e biglietti per le partite interne del Pescara. I carabinieri sono stati chiamati dal vicepresidente del Consiglio Comunale Fausto Di Niso dell'ITV il quale si era presentato negli uffici comunali per richiedere l'eventuale lista. Secondo quanto si è preso al diniego degli uffici Di Nisio avrebbe chiamato i carabinieri ai quali sarebbe stato posto ulteriore rifiuto. Di Niso nei giorni scorsi aveva promosso una battaglia di legalità per il rispetto della convenzione tra comune e Pescara Calcio. Secondo il contratto il club dovrebbe corrispondere 160 ingressi al comune come forma di controllo dell'autorità pubblica sull'impianto comunque di proprietà comunale. Proprio per evitare abusi aveva chiesto di accedere ai beneficiari di questi ingressi. In Serie B il Lanciano partirà domani per Padova in vista dell'esordio di sabato una vigilia carica di emozioni e di speranze. Carmine Gautieri sempre un piacere è l'antivigilia del viaggio della speranza si parte in treno domani e poi all'Euganeo ecco continua un sogno per una stagione che prevede tanti sacrifici. Sì, è un sogno che bisogna dare continuità a un campionato completamente diverso da quello dell'anno scorso dove l'abbiamo vinto anche meritatamente sappiamo benissimo di affrontare una delle tante squadre candidate a vincere il campionato però noi vogliamo fare la nostra parte come l'abbiamo fatto lo scorso anno. Come si sente il mister? Sta dormendo la notte? Ma sì, con la massima serenità è normale che quando si avvicina alla partita cambia un pochino il morale ma sia da parte del governatore che da parte di tutti c'è la massima concentrazione per far bene sì, è nella prima partita è durante questo campionato sappiamo benissimo che è un campionato come ho detto prima difficile però noi ci vogliamo far volere. E chi è che sta bene? Chi è che invece ecco le defezioni? Parliamo di quelle. Ma ho tanti giocatori in questo momento chi è trascualificato e infortunati fuori vedi Amenta vedi D'Aversa vedi Fofanà vedi Pepe, Vasto ho tanti giocatori fuori però penso che chi sostituirà questi giocatori sicuramente farà la propria parte cercando di mettere a disposizione il proprio valore perché sappiamo benissimo come ho detto prima in questo campionato indipendentemente da chi giochi bisogna sempre dare il massimo. L'ultima cosa dice ai tanti tifosi che hanno giuito l'anno scorso che all'inizio erano un po' titubanti e che poi ha fatto riappacificare col calcio e con il rosso nero? Ma i tifosi dico che di stare sempre vicino alla squadra come hanno sempre fatto lo scorso anno questa è una squadra completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso e dell'anno passato abbiamo tantissimi giovani e sappiamo benissimo che i giovani ci vuole il tempo giusto e necessario per farli crescere sperando che poi arrivi ancora qualche giocatore importante per completare una rosa dove in questo momento qui è ancora deficitare però sono fiducioso nella società la società sa benissimo che ci vogliono i 3-4 giocatori importanti per completare questa rosa importante accordo commerciale tra la Virtus Lanciano e l'MSC crociere previsti sconti per tutti gli abbonati il Lanciano va in crociera e lo fa con MSC l'accordo commerciale tra il club rosso nero e la compagnia crociaristica è stato presentato presso il ristorante La Torre e prevede per tutti i tifosi abbonati alla stagione calcistica ormai ai nastri di partenza che salpano in crociera a bordo di una delle 12 navi MSC uno sconto di 200 euro per chi possiede un abbonamento per il settore curve di 300 per il settore distinti tribuna laterale scoperta e addirittura 400 euro a cabina per chi possiede un abbonamento per il settore tribuna centrale e coperta negli ultimi due anni la Virtus ha cercato di orientare l'attività di marketing verso la ricerca di partnership con un alto profilo e appunto la collaborazione con MSC legittima queste intenzioni parola al vicepresidente Guglielmo Maio su due fronti relativo al calciomercato e quello poi relativo al nodo dello stadio Biondi e dei lavori di adeguamento noi siamo comunque a ricerca di un difensore centrale e qualcosina da davanti che sia una punta o un esterno o una punta che possa fare anche l'esterno vediamo quello che il mercato ci offre abbiamo già qualche nome e vediamo insomma il campionato di inizio a sabato la prima in casa che fra virgolette in casa appunto si teneva a Pescara quando aspettate di giocare al Biondi possiamo fare una stima appena il campo sarà pronto non lo so però adesso sembrerebbe che le prime due in casa giochino a Pescara queste sono le notizie che mi arrivano poi vediamo farsi pure che se ne giochi una sola a Pescara vediamo un attimo come vanno i lavori e ci regoleremo di conseguenza ed è tutto anche per questo appuntamento con la nostra informazione regionale vi ricordo che servizi e approfondimenti sono disponibili sul sito tgmax.it grazie dell'attenzione e arrivederci a domani grazie a tutti